Ciao a tutti ragazzi, konnichiwa, bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio parlare di un argomento un po' diverso dal solito, ovvero di un problema molto grave ed è il problema del lavorare troppo e di morire poi per il troppo lavoro, che in Giappone si dice karoshi. Ma prima ovviamente via con la sigla. Riguardo al tema del karoshi, io ho scritto un articolo che è stato pubblicato sul sito di Vanilla Magazine www.vanillamagazine.it Io oggi in questo video vi spiegherò un po' che cos'è il karoshi e da dove arriva e alcuni episodi che mi hanno colpito di più ma ovviamente per sapere tutte le informazioni in modo più preciso e dettagliato vi invito ad andare sul sito di Vanilla Magazine e leggervi l'articolo. L'articolo si chiama il karoshi in Giappone, due punti, il lavoro che uccide. Innanzitutto iniziamo analizzando la parola karoshi. Karo vuol dire troppo lavoro, mentre invece shi vuol dire morte. Di karoshi muoiono centinaia di giapponesi all'anno e il primo caso fu registrato nel 1969 quando un impiegato giapponese di soli 29 anni morì a seguito di un ictus per aver lavorato troppo. Ma è solo nel 1978 che viene cognata la parola karoshi e sarà nel 1982 che entrerà effettivamente nell'uso comune. Grazie all'influenza di un libro il cui titolo io l'ho tradotto come Karoshi, prevenzione e riconoscimento delle malattie cardiache e cerebrali in ambito lavorativo. E come autori ho trovato Tajiri Shunichiro e Uehata. Se voi avete trovato diversamente scrivetemelo ovviamente sotto nei commenti. Riconosciuto finalmente come una vera e propria minaccia, nel 1987 il ministero del lavoro giapponese incomincia a pubblicare delle statistiche sulla morte per il troppo lavoro in tutto il paese. E quello che ne emerge è spaventoso perché viene fuori che almeno un quarto degli uomini giapponesi lavoratori lavorano circa 60 ore a settimana. E quindi ovviamente 20 in più rispetto alle 40 ore di base che si dovrebbe lavorare. Realizzando la serietà del problema il governo decide di mettere in funzione una hotline, quindi un numero verde che si può chiamare nel momento in cui riconosci in te stesso o in altre persone i sintomi del Karoshi. E questa hotline è attiva ancora oggi, infatti vi metto sotto in descrizione il link. Ma da dove inizia tutto ciò? Perché i giapponesi lavorano così tanto? Tutto ha inizio nella seconda guerra mondiale, anzi per la precisione alla fine della guerra. Infatti come sappiamo tutti il Giappone rimane sconfitto nello scontro mondiale e c'è la conseguenza di dover ricominciare a risollevare l'economia del paese ovviamente da zero. Anche qui come sappiamo tutti i giapponesi vengono aiutati dagli americani che addirittura prendono la costituzione giapponese e la riscrivono totalmente da capo. In più aprono le porte dei propri commerci al Giappone. E tra le mille altre cose un'altra informazione molto importante è che con l'accordo che si chiama Plaza, lo yen ottenne un apprezzamento molto superiore rispetto alle altre monete straniere. Il primo ministro dell'epoca Shigeru Yoshida quindi si impegna moltissimo nella ricostruzione dell'economia del paese trovando validi alleati nel popolo stesso giapponese che anche loro incominciano a impegnarsi a lavorare tantissimo per far sì che il Giappone possa uscire da questa situazione claustrofobica. Infatti incomincia a esserci pian piano un certo benessere e infatti questo cambiamento da zero a mille viene chiamato proprio come il miracolo economico giapponese. Però ovviamente tutto ciò ha un prezzo e il prezzo è la vita dei lavoratori che si spaccano la schiena tutti i giorni per 60 ore alla settimana per poter riuscire a risollevare le sorti del paese. Io nel mio articolo parlo nello specifico di due casi di Karoshi in cui sono morte due ragazze. La prima si chiama Miwa Sado che era una reporter della NHK che è un programma famosissimo giapponese che troveranno morta il 25 luglio del 2013 nel suo appartamento con ancora in mano il suo cellulare. Lei morirà per arresto cardiaco e solo nel 2015, quindi lei muore nel 2013 ma solo nel 2015 la sua morte viene riconosciuta come morte per troppo lavoro, quindi come Karoshi a tutti gli effetti. All'inizio infatti i genitori volevano un po' togliere la figlia dai riflettori della tragedia ma poi rendendosi conto che la sua morte sì è stata per arresto cardiaco ma dovuto alle tantissime ore di straordinari che faceva sul lavoro hanno deciso di pubblicare la notizia per far sì che tutti gli altri giapponesi che fanno un sacco di straordinari si rendessero conto che andando avanti così si rischiava veramente di morire. Stando alle informazioni che ho trovato infatti Miwa aveva fatto 146 ore di straordinari e nel mese precedente alla sua morte 159. Un altro caso celebre di morte per Karoshi è avvenuto nel 2015 e in questo caso la vittima si chiama Takahashi Matsuri che aveva cominciato, aveva appena cominciato a lavorare in un'azienda che si chiama Densu e dopo soli nove mesi che lavorava per questa azienda è morta per Karoshi. La sua pagina tweet che la mamma ha voluto mantenere intatta è veramente un'escalation dall'emozione dei primi giorni di lavoro, dei primi tempi di lavoro alla depressione e a sentimenti di sfidimento mentale e fisico che questa ragazza ha provato appunto in questi lunghissimi nove mesi. Soprattutto a seguito della morte di Takahashi nel 2016 il governo giapponese promuove un'iniziativa per andare contro questo gravissimo problema del Karoshi. L'iniziativa si chiama Premium Friday dove l'azienda avrebbe permesso ai propri dipendenti di uscire alle 3 del pomeriggio l'ultimo venerdì del mese. Inutile dire che tantissime aziende non aderirono alle Premium Friday e quelle che vi aderirono dovettero addirittura dare dei soldi in più sullo stipendio ai lavoratori per convincerli a uscire prima perché nessuno voleva uscire prima. Il problema fu anche riscontrato nel fatto che lavorando un pomeriggio in meno il lunedì successivo i dipendenti si ritrovarono una mole di lavoro molto più pesante di quella che avevano invece di solito. E quindi anche per questo motivo questa iniziativa fu un flop totale. Insomma il Karoshi è ancora presente in Giappone e io vorrei dire non solo in Giappone ma anche in paesi dove noi pensiamo che non ci sia come per esempio l'Europa, l'Italia. Ovviamente in Giappone forse è ancora più sentita la cosa anche perché per i giapponesi è normale fare gli straordinari non pagati tra l'altro. È un modo per loro per far vedere all'azienda che stai gambattando, che stai facendo del tuo meglio, che tu vuoi rimanere in quell'azienda e che tu puoi fare la differenza. E quindi è una serie di dinamiche sociali che noi occidentali purtroppo non possiamo capire se non venendo qua sul posto e provando a lavorare in un'azienda giapponese. In questo video non ho voluto mettere le foto delle ragazze di cui ho parlato perché comunque sono fatti molto recenti e quindi non voglio nuocere alla sensibilità di parenti, amici, conoscenti che insomma potrebbero essere giustamente ancora vivi perché si parla di fatti che sono successi al più tardi nel 2013. Quindi appunto ho deciso di non mettere le foto delle due ragazze. Per oggi è tutto, spero vi sia piaciuto questo video anche se è un po' diverso dal solito. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram. Il mio nome è manu__28j. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao mattanè! Ciao! Ciao! Ciao!